luogo in comune luogo in comune è un progetto dell'associazione cambalace in collaborazione con l'associazione blogal che ha ricevuto il sostegno dell'ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali nell'ambito della sedicesima settimana di azione contro il razzismo per la costruzione di azioni positive contro le discriminazioni etnico e raziale e si luogo in comune fa parte appunto di un progetto in cui alcuni ragazze e ragazzi di con esperienza di migrazione hanno si sono impegnati si sono impegnati per tutti per tutti questi mesi per per darvi per fornire al pubblico un tour della città artistico culturale turisti scusate ma cosa state facendo quale esercizio quale esercizio quale esercizio quale esercizio no dobbiamo fare l'evento su mettetevi in posizione eccoli qua sono loro sono loro le ragazze e ragazzi che hanno lavorato per tutti questi mesi per proporvi un tour un tour artistico culturale ma anche sociale anche sociale individuando appunto quei luoghi di interesse sociale della città per presentarvi una versione di alessandra antirazzista multietrica e multiculturale adesso qui siamo nel quartiere oggi di borgo rovereto un quartiere molto importante che ha sperimentato una rinascita negli ultimi mesi anche negli ultimi anni anzi addirittura e noi siamo pronti per presentarli siamo pronti ci siamo andiamo grazie a tutti 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 Grazie a tutti.